Bene, siamo qua all'UniRock con il secondo classificato, che si chiama? Angelo Rampone Bene, Angelo, allora da quanto tempo Pitti? Ho iniziato due anni fa, ho visto un mio amico che lo faceva, mi è piaciuto, ho detto perché non iniziare? Mi sono messo lì, ho iniziato a buttare giù i primi disegni, mi è piaciuto, mi ha preso davvero e ho continuato Ti ispiri a una persona in particolare oppure sono tutte le tue creazioni? No, persone no, mi ispiro più che altro a me stesso perché seguo la mia testa, seguo le mie idee e butto giù quello che ho in testa Se sono triste butto giù dei disegni particolarmente tristi, se sono felice butto giù dei disegni particolarmente felici Ti volevo chiedere un'ultima domanda, cosa ne pensi di questa attività dell'UniRock che ha proposto per voi giovani, per voi writer della zona? Guarda, io vengo da Carpi, questa idea mi è piaciuta perché da noi queste cose non le fanno, quindi è stata una buona idea Mi è piaciuto, ho molte persone qua a vedere, a fare del casino sotto il palco, a guardare, a fare le foto, a divertirsi con noi Devo dire che è stato un bel evento, sì sì mi è piaciuto, ho dipinto tranquillamente bevendomi la mia birra Quindi il prossimo anno se ci sarà sarai felice di ripartecipare? Sì assolutamente, però dato che a settembre mi trasferisco a Roma vado a vivere lì per un po' quindi se capita l'occasione vengo Va bene perfetto, allora buona serata qui dalla serata Writer a voi Grazie mille Ciao siamo qui in UniRock, questo è il primo classificato, il suo nome è? Gabriele Lui viene da Scandiano, un ragazzo giovane, carico e cosa ne pensi di questa esperienza? Beh buona, organizzavamo anche noi ragazzi a Scandiano con il centro giovani, penso che siano buone per, insomma, trovare un'alternativa ai ragazzi qua nella periferia Cosa ne pensi, come possiamo fare per il prossimo anno, come possiamo migliorare queste cose? Beh, magari per noi Writer pannelli più grossi, più larghi, magari più che sottili e penso che poi vada bene, insomma, secondo me Eeeh, cosa fai, verrai, ritornerai a San Martino per nuove, nuove pittate? Sicuramente sì, sicuramente sì Beh, qui è tutto, ringrazio il cameraman e tutto il resto della gente, un saluto da tutti Grazie, grazie Ciao Grazie Grazie